In questo periodo durante il quale un notevole flusso di veicoli e di persone percorrono le strade della nostra regione, è importante che i controlli siano fatti in modo costante e da garantire la sicurezza pubblica, nonché assicurare il rispetto del codice della strada, scongiurando situazioni di pericolo per gli utenti lungo le principali vie di comunicazione. In quest'ottica la compagnia Carabinieri di Melito Portosalvo ha svolto un'importante attività controllando più di 1.400 persone e circa 1.000 veicoli, nonché mettendo sanzione al codice della strada per una montare di circa 15.000 euro. Inoltre la sezione radiomobile ha deferito all'autorità giudiziaria regina un trentenne di nazionalità marocchina, ma residente a Melito Portosalvo, accusato di guida in stato di abbrezza, in quanto mentre stava alla guida di una bicicletta pedalata assistita ha perso il controllo del mezzo, riportando lesioni per le quali veniva trasportato all'ospedale Tiberio Evoli di Melito Portosalvo, dove è risultato positivo con un tasso oltre quello consentito. In un'altra occasione una pattuglia del pronto intervento dell'Arba ha denunciato un 68enne senza fissa dimora, originario del comune di Roccaforte del Greco, per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Dopo una segnalazione telefonica al 112 da parte di un cittadino, circa la presenza, su corso Garibaldi del centro melitese, di un uomo armato di coltello. E sempre nella provincia di Reggio Calabria, i carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni hanno denunciato quattro persone per violenza nei confronti delle rispettive partner. In particolare sono state emesse tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, un divieto di avvicinamento alla persona offesa, in seguito alle denunce delle quattro donne che hanno fatto scattare il codice rosso. Gli atti di violenza si riferiscono soprattutto al periodo natalizio sono stati denunciate le stazioni di Villa San Giovanni, Campo Calabro e Bagnaracala, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli investigatori dell'arma hanno perciò potuto acquisire tutti gli elementi con i quali la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha chiesto ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'emissione dei quattro provvedimenti a tutela delle vittime.